Philip Morris Italia Realizzaraba si ombra un centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell'azienda in Europa. Si tratta dello European Leaf Warehousing Center. Il nuovo sito avrà un'estensione di circa 30.000 m2 entro il 2023 e sarà posizionato a fianco degli uffici di Philip Morris Italia che da Bastia Umbra gestiscono l'acquisto di tabacco in foglia di Philip Morris International per tutta l'Europa. Il centro sarà gestito in collaborazione con un'azienda terza leader del settore, prevede fino a 50 posti di lavoro. Continuiamo a investire in Italia, anno dopo anno, in agricoltura, industria e servizi stimolando lo sviluppo di una filiera integrata Made in Italy che oggi coinvolge oltre 38.000 persone, ha affermato Marco Anappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. Siamo particolarmente orgogliosi, ha aggiunto, di accrescere la nostra presenza in Umbria e in Campania entrambe regioni tabacchicole con cui abbiamo una storia di collaborazione di lungo corso.